Siamo veramente molto giù di morale, però dopo una prestazione così io direi che ci potrebbe essere la svolta, perché se si gioca così comunque prima o dopo ci deve essere la partita a nostro favore, quindi certo no, quello sicuramente, come ci abbiamo creduto stasera ci abbiamo anche da tutte le partite. Loro sono sempre molto attaccati giustamente alla maglia, quindi noi dobbiamo cercare di dare il meglio ogni volta che scendiamo in campo, quindi era giusto così. Diciamo che soprattutto dopo questa sono state lasciando stare Prato, però sia col Pisa che oggi sicuramente non meritavamo la sconfitta. Adesso dobbiamo ripartire dai piccoli errori che comunque sono stati fatti anche questa sera, dobbiamo andare subito sabato a Ponte d'Era a vincere. Grazie. 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 Grazie.